Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima alla nostra prima edizione flash giornaliera che apriamo come di consueto con l'andamento della curva pandemica da coronavirus. Sono 13.633 i nuovi casi covid sul territorio nazionale nelle ultime 24 ore con un incremento di vittime di 472 persone che porta il numero complessivo a 84.674. Sono invece 264.728 i test effettuati tra tamponi molecolari e test antigenici con un tasso di positività che è leggermente sceso al 5,1 rispetto al 5,2 della giornata precedente. Al momento sono ricoverati in terapia intensiva 2.390 pazienti in callo di 23 nel saldo tra entrate e uscite rispetto alla giornata precedente. Gli ingressi giornalieri sono stati invece 144 nei reparti ordinari. sono ricoverati 21.691 pazienti in calo di 354 unità rispetto alla giornata di mercoledì. Invece in leggero aumento in campania il tasso tra positivi e tamponi che sale al 7,99% rispetto al 7,8 della giornata precedente. Nel consueto bollettino di aggiornamento quotidiano diramato dall'unità di crisi si registrano 1.106 nuovi positivi di cui 91 identificati con test antigenici rapidi su 13.834 tamponi complessivi di queste persone e 64 sono sintomatiche. 46 invece sono i deceduti di cui 7 nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'ultimo bollettino. I guariti invece fanno riferimento a un numero complessivo di 10.105. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 104 mentre invece su 3.160 posti tra offerta pubblica e privata a disposizione della regione Campania ne sono occupati 1.438. Cambiamo argomento, parliamo di quella che è la questione vaccini fortemente affrontata in modo aspro anche dal Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta conferenza stampa del venerdì. Ha detto il Presidente che nessuno mi dica che si stanno rispettando dei criteri oggettivi, è un vero e proprio mercato nero dei vaccini. Il Presidente però ha fatto una promessa, ha detto entro la fine dell'anno vaccineremo tutti i cittadini della Campania. Sul punto andiamo ad ascoltare le parole del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ieri abbiamo fatto un incontro molto profigo con alcuni sindaci delle città metropolitane, siamo stati a lungo con lui, devo dire in maniera puntuale ci ha descritto il piano, il piano che riguarda il Paese, le città, il ruolo dei sindaci. E' un piano che è molto condizionato dalla capacità dei produttori, non solo Pfizer, ma anche gli altri che devono arrivare, di rispettare gli impegni che sono presi. Quindi la progettualità di massima è quella di arrivare in autunno con la vaccinazione di massa, seppur non obbligatoria. Ma questo è condizionato alle produzioni. Diciamo c'è ancora un moderato, se meno convinto, mettiamolo in questo modo, da parte loro di ottimismo rispetto a prima, però ritengo che si possa anche recuperare questo tempo che parzialmente si è perso in questi giorni. Io non dispero che l'inizio della primavera possa essere il momento in cui si inizia a intravedere quella luce, per poi arrivarla a percepirla sempre più luminosa. Cambiamo argomento. Il Tar della Campania si è pronunciato e come era nell'aria ha accolto quello che era il ricorso di alcuni genitori presentati contro l'ordinanza della Regione Campania e ha deciso la riapertura delle scuole superiori in presenza dal prossimo primo di febbraio. Ecco che dunque la Regione Campania si dovrà uniformare a quanto previsto dal DPCM emanato dal Governo per le scuole secondarie superiori. Ecco che appunto il rientro dovrà avvenire entro il primo febbraio e c'è anche la possibilità di anticipare naturalmente ove le condizioni locali possano consentire quello che è il rientro in presenza e soprattutto in sicurezza degli studenti. Sul punto anche qui si è espresso il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris. Sentiamo. La giustizia amministrativa ricorda al Presidente della Regione che esiste uno dei diritti costituzionali più importanti che chiaramente è compresso dalla pandemia ma la compressione non può diventare consuetudine definitiva. Soprattutto il Presidente della Regione è stato bravo ad essere il primo in un triste primato visto che lui ricorda spesso i primati, cioè quello della Regione che ha per ultima aperto la scuola dopo l'estate e che per prima l'ha chiusa. Quindi di fatto ha contribuito pesantemente a un affievolimento significativo della garanzia del diritto a tutti. Settimana prossima porterò al Ministro dell'Istruzione i dati sulla dispersione scolastica, sono terribili. Bisogna essere consapevoli che la DAD non arriva ovunque è chiaramente strumento indispensabile in pandemia, quindi non è che sto banalizzando la questione ma credo che qui troppo frettolosamente si è ritenuto che la scuola dovesse essere il luogo primo da sacrificare subito. Non c'è luogo totalmente sicuro dalla pandemia ma anche lo stesso CTS ha detto che sicuramente tra i luoghi più sicuri c'è la scuola. Qua non c'è un ente che vale per tutti e non ci sarà mai il luogo della prontezza assoluta e della perfezione. Noi siamo pronti a partire perché se è fatto un lavoro, devo dire, secondo me molto proficuo in questi mesi tra prefettura, comune, dirigenti scolastici, direzione regionale scolastica, aziende dei trasporti e tutti gli altri enti interessati per cercare di garantire al meglio tutti i servizi connessi alla scuola, trasporto, distanziamento, differenziazione di orari. È chiaro, prima si parte, prima si tarano anche le eventuali correzioni che si devono fare. Mi sento di dire che Napoli ce la può fare come ce la può fare una città del centro o del nord. È difficile ma è una sfida che dobbiamo cominciare ad avere. Restiamo a Napoli perché sette operatori del posto centrale operativo della linea 1 della metro del capoluogo partenopeo sono risultati positivi al coronavirus. La NM, fatto sapere in una nota, ha sottoposto circa 40 dipendenti a due tamponi di controllo, ovvero 15 dipendenti della centrale e 25 che per diversi motivi si sono trovati in centrale nei giorni scorsi. La necessità è nata dalla rilevazione di positività di un dipendente asintomatico che appunto in quanto tale non era consapevole di avere il virus. Il sito comunque viene sanificato tre volte al giorno, controllati gli accessi e viene misurata a tutti la temperatura, ha voluto sottolineare la NM, che comunque ha inviato una comunicazione ai dipendenti comunicando che il soggetto positivo è stato comunque sottoposto in isolamento. Ecco perché si è previsto che l'azienda ha assicurato ai dipendenti della centrale che verranno ripetuti già dalla giornata di oggi e fino al prossimo 29 di gennaio il tampone a tutti i giorni per quanto riguarda la sede dei Colli Aminei e dal 30 di gennaio con frequenza di uno ogni due giorni almeno, con costi totalmente a carico dell'azienda. All'esito dei risultati poi naturalmente verrà valutata quella che è la modalità di prosecuzione della linea 1 della metropolitana di Napoli. A Caserta l'ASL ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento coronavirus sul territorio. Nella giornata del 22 di gennaio si certificano 104 nuovi positivi cui si aggiungono 294 guariti e 8 deceduti. come potete vedere dalla grafica ci sono stati 1748 i tamponi processati con un tasso di positività del 5,9% comunque in discesa rispetto a quelle che sono state le giornate precedenti. Maddaloni continua a essere la città della provincia con il maggior numero di positivi con 280 persone contagiate seguita da Mondragone con 188 e da Caserta con 171. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus il Napoli prepara il rientro in campo in campionato nella trasferta di Verona contro l'Ellas in programma domenica alle ore 15. La miglior notizia per il tecnico calabrese Gennaro Gattuso è il ritorno a seguito di tampone negativo di Victor Ozyman. Come è comunicato dal club partenopeo il calciatore è guarito dal Covid e potrebbe essere già convocato per la trasferta scaligera. Per quanto concerne le formazioni la squadra di casa giocherà con il consueto 3-4-2-1 davanti a Silvestri ci saranno Davidoviz, Gunter e Magnani. In mediana ha recuperato Tamesè che farà coppia con Ilic. Faraoni a destra, a sinistra, ballottaggio tra Di Marco e Lazovic. Mentre invece alle spalle di Kalinic ci saranno Barak e Zaccagni. Del Napoli pochi dubbi. Tra i padri ci sarà Meret. Poi in difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Isai favorito su Mario Rui. Fabian Ruiz assente. Lo spagnolo ancora alle prese con il Covid. Dunque riproposta la coppia in mediana Demme e Bacayuco in attacco. Petagna invece sarà supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Driz Mertens dalla panchina e si attende quella che è la convocazione possibile di Ozyman. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora al PrimaTG delle ore 13.30. Da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci.